Guido Guidesi, come commenta l'indagine della Consob sulle banche popolari? L'indagine della Consob certifica una cosa che noi diciamo da tanti giorni, quella che il Presidente del Consiglio, annunciando un decreto sulle banche popolari, ha influenzato i mercati azionari perché l'ha annunciato quattro giorni prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri. Allora noi vogliamo capire chi ha speculato sui titoli azionari delle banche popolari e soprattutto se qualcuno sapeva prima di questo decreto e anche se il Presidente del Consiglio è stato influenzato da qualche amichetto nella composizione di questo decreto. È una cosa inammissibile, c'è una valutazione anche su un possibile aggiottaggio rispetto all'atteggiamento tenuto dal Presidente del Consiglio, però noi riteniamo che a questa cosa ci si debba dare assolutamente in fondo. Grazie. Grazie.